Ci abbiamo qua Giulio Morelli, anche lui figlio d'arte, siamo pieni di figli d'arte, meno arte di Massimiliano, ma sempre arte. Palleggiatore, viene da Roma, è il piggiole della squadra, questo sì, 20 anni appena compiuti. Un ruolo importante, quello di, come diceva questa mattina l'allenatore, di mettere pressione all'altro palleggiatore, che curiosamente è il più vecchio, abbiamo il più vecchio e il più giovane della squadra, in meno giorni, scusami, in meno giorni della squadra, ma in mezzamente giorni è quello lì, no, non è partito neanche questa volta, non succede. Allora Giulio, anche per te, credo, prima esperienza lontano da Roma, che è la tua città, come ti stai trovando in questo mese e anche per te, voglio sapere le prime impressioni di questa società. È vero, è il primo anno lontano da casa, però il gruppo è fantastico, devo dire, è la prima cosa che è stata dall'occhio, abbiamo adesso almeno un gruppo fantastico, ci autodefiniamo un gruppo dei samurai, no, da parte gli scherzi è davvero bello stare qua e mettersi alla prova subito, spero di fare bene e di fare meglio di mese in mese, e ci tengo molto a stare qua e a essere anche una polizia.